Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un prodotto particolare, devo dire la verità E anche un po' strano per il mio canale, però un prodotto comunque che ci hanno mandato alla Germania La Escape Welt, che ovviamente ringrazio di cuore per tutti i prodotti forniti Che è stato veramente interessante, anche un po' per la lore e il background che c'è tutto intorno E allo stesso tempo divertente Si parla di dei puzzle da comporre, tutti quanti come vedete in legno e tagliati con laser cutter Quindi roba comunque su cui c'è stata una certa lavorazione E si parla addirittura di un puzzle da comporre Come vedete questo di qua e questi di qua, due puzzle che vanno a comporre delle mini escape room Perché sono praticamente delle escape room puzzle E poi questo qui invece è un vero e proprio puzzle che dovrete andare a comporre dentro tutta quanta la sua cornice Questo è un gioco che narra la storia di una persona che era particolarmente triste Di un padre triste, ovviamente ambientata in Giappone Particolarmente triste perché non vedeva da tanto tempo il figlio E non vedeva da tanto tempo anche appunto i suoi nipotini Allora quest'uomo, molto triste e tutto, si è addormentato e durante il sogno gli è comparso un drago Questo drago è apparso e gli ha detto di non essere triste per la lontananza della sua famiglia E anzi non è mai troppo tardi per riallacciare i legami Allora quest'uomo si è svegliato il giorno dopo E ha trovato il piano di costruzione per costruire questa casa a castello E lo stesso giorno ha sentito suonare alla porta la sua famiglia E dunque si sono presentati a casa proprio nell'esatto istante in cui lui aveva appena finito di costruirla E questa è un po' la morale dell'insieme che gli ha voluto dare il drago Che non è mai troppo tardi per riallacciare i legami e soprattutto l'unione fa la forza Infatti poi hanno chiamato questo gioco appunto la casa del drago E ve ne parlo a breve dopo la sigla House of the Dragon Che non è la serie di Game of Thrones Della Escape Welt Che è una ditta tedesca Quindi se volete ordinare direttamente questi prodotti Vi lascio il secondo link in descrizione Evitando tutti i tipi di spoiler del mondo Perché comunque vedete che gli oggetti sono già montati Però ovviamente vi facciamo vedere Praticamente il puzzle, l'escape room già finita E non vi diciamo i vari passaggi Perché vedete ci sono pezzi sempre fatti in legno con laser cutter Che sono stati già staccati dalla struttura Quindi comunque non vi diremo assolutamente nel corso del video come risolverla Perché sarebbe rovinarvi tutta quanta l'esperienza e la curiosità Ovviamente se vedendo già dei pezzi qui vi potesse venire una mezza idea di come fare Sono il primo a dirvi evitate di vedere questo video Ora è molto particolare anche questa casetta qui Tutto senza voltarvela nel niente Perché ovviamente ha dei meccanismi Sono parti tutti quanti unite insieme E hanno parti ovviamente meccaniche Quindi addirittura qui sopra il tetto ruota Dietro ci sono delle cose che vengono fuori o girano Sui lati ci sono tipo delle cose da spostare Finestrelle e cose del genere Quindi ci sono dei meccanismi da sbloccare uno dopo l'altro Che una volta sbloccati tutti quanti vi faranno aprire direttamente la struttura E all'interno ci troverete una sorpresa che non vi diciamo quale E a questo discorso della sorpresa vi ricollego a quest'altro Quest'altro è veramente molto carino e interessante come idea Intanto vedete qui tre pezzi che dopo vi dirò a cosa servono Vedete questa struttura che è simile a quest'altra Che praticamente è quest'altro puzzle da 88 più pezzi La scatolina che vedete qui dietro Perché questo potrebbe essere una trovata geniale da fare ad esempio A un amico che ha poca pazienza per farsi una risata O qualcuno che invece adora l'escape room Perché voi potete prendere il vero e proprio regalo Che dovrete fare a questa persona Montate tutta quanta perché va composta eh Questa esce già montata Questa no, dovete montare voi Le ci mettete il regalo dentro Lo andate direttamente a chiudere E una volta chiuso con queste due Lo bloccate E con praticamente la chiavettina dietro Andate a spostare dei vari meccanismi Più ruote e tutto Che vanno a bloccare la combinazione Quindi il malcapitato A cui avete messo il regalo Che atteneva da tanto tempo Una cosa piccola magari per le dimensioni Qua dentro Dovrà risolvere tutto quanto l'enigma Fino ad andarla aprire e poter prendere il regalo Quindi ci dovrà perdere del tempo E arriverà in ginocchio a dirvi Cortesemente O me lo aprite o lo spacco in mille pezzi Ora comunque a parte gli scherzi E' anche bellina come idea Perché li date Cioè io penso che se l'avessi fatta un amico mio Con suo figlio si sarebbe divertita Pippo perché gli avrebbe detto Guarda Lorenzo Dentro c'è un bel regalino Che potrebbe interessare Però prima risolvi l'enigma E magari per risolvere l'enigma Ci butta un'ora Cioè anche divertente Cioè sembra proprio che te lo sei agognato Il premio che c'è dentro E anche questa comunque già da parte Già di suo È un escape room Quest'altra invece Arriva già così montato E all'interno di questa invece c'è Direttamente un premio Che non vi diciamo cos'è È un premio di tutta la storiella Che c'è dietro E qui ci sono varie parti Smontate Che sono parti di qua Perché come lo vedete adesso È l'escape room finita Quindi Dovete riuscire voi A capire le combinazioni Quale pezzo spostare Quale pezzo togliere Quale pezzo rimuovere Quindi c'è un senso Perché ci sono anche delle scritte Dei kanji E roba fondamentalmente giapponese Quindi anche voi dovete prendere Sta struttura Girarla Guardarvela un po' tutta Per capire insomma Com'è fatto E trovare una soluzione Mentre questo invece È un puzzle Già fatto e finito Con la cornice e tutto Voi lo dovete prendere Girarlo Buttarlo sul tavolo Che si stacca E rimangono attaccati Alcuni pezzettini Che ovviamente sono incollati Alla cornice E lo dovete rimontare E tutto quanto Quindi dovete essere voi È un altro gioco puzzle A capire l'esatta sequenza E tutto quanto E rimontarlo piano piano Sono giochi che secondo me Vanno bene tutti e tre uniti Cioè se io dovessi fare Un regalo a qualcuno Che ama scelverlarsi Di queste cose Anche perché Questo può durare C'è scritto anche sulla scatola Un paio d'ore Per trovare la soluzione Questo magari Frammontarlo E cercare la combinazione Per aprirlo Ne può durare Anche questa Un altro uno o due E questo uguale Quindi cioè Sono giochi molto veloci Se uno deve fare un regalo Sarebbe bellino prendere tutti E poi sono cose anche Ripeto particolari Perché sono fatte bene Tagliate con laser cutter Come vedete E quindi sono carine Anche un giorno finito Può rimanere comunque Una specie di Cofanettino Che ogni volta Che uno deve fare un regalo Può ripetere lo stesso esperimento Con altri familiari O altri amici Vi faccio vedere ora Com'è fatta questa scatola All'interno Questo è il passaportino Tra l'altro bellino Fatto anche carino Dove all'interno Si vedono tutti quanti I loro prodotti Che sono ovviamente Sempre prodotti Puzzle Labyrinthi E escape room Perché loro trattano Direttamente di queste cose E dentro ci sono Veramente tanti prodotti Che poi potete Direttamente ordinare Guardate anche bellina La quest della piramide Addirittura tutte fatte Sempre così È in laser cutter Quindi sono anche bellini Poi un giorno Finito il tutto Come soprammobili Cioè da tenere in casa Sono veramente carini Libretto delle istruzioni Che vi mostra Ovviamente Passo passo Come montarlo tutto Quindi è il libretto Delle istruzioni Di questo qua Vi mostra Come montarle Tutto E poi lo dovete Come ho detto Tutto quanto andare a bloccare Poi qui ci sono All'interno Gli sprue Di compensato Ovviamente dove C'erano attaccati Tutti quanti i pezzi Che noi abbiamo staccato E qui Siamo arrivati A fine del video E c'è anche Una piccola critica Ovviamente Per fare Un Una recensione Un'anteprima onesta È giusto dirla Il prodotto È ben fatto Ma in alcune sue parti È un pochino Troppo Troppo sottile Ora in questo caso qui No Non è particolarmente sottile Però in alcuni altri pezzi Che sono stati staccati Sì C'è una parte Dove ci sono Da staccare Ovviamente Dalli sprue Dei cerchi Più cerchi concentrici Che ovviamente sono parte di Un meccanismo Come tutto quello che va a comporre L'escape room Che era talmente sottile Che mia moglie Quando l'ha staccato Ma talmente sottile Che anche andandoci piano 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 Con le pinze Si è rotto E quindi ha dovuto usare Per forza di cose L'attack Quindi ci sono delle parti Forse un po' troppo sottili E conviene farci Veramente E particolarmente Attenzione Comunque per me È un prodotto carino È un prodotto Per tutti Per tutti no Onestamente Perché È un prodotto indicato A persone a cui piacciono Queste cose A cui piacciono L'escape room O anche i puzzle Però vi ripeto Comprarne uno non ha senso È da fare un bel regalo Magari spendere qualche soldino In più Non costa tantissimo Sta roba Farsela arrivare Tutta completa Cioè far avere un bel pacchetto Che magari In una serata Di quattro ore Fra amici Si fa tutto Anche perché Sono giochi Come tutte le escape room Quelle mi vengono Ad esempio Della cranio O altri Che una volta fatte Sono finite Cioè nel senso Le puoi tranquillamente rivendere Non ci giochi mai più Anche perché La soluzione è sempre quella Però allo stesso tempo Sono bellini Perché ribadisco Anche dopo Come soprammobili Sono carini O quando vuoi fare un regalo A qualcuno E gli dici Oh io il regalo Te l'ho fatto Però Te lo devi guadagnare Apri questa combinazione Cioè È anche bellina Come da mi piace Sa anche un po' di sole Enigmista Cioè qualcosa di strano Quindi comunque Sono prodotti carini E se le volete ordinare Direttamente dall'escape wealth Primo link In descrizione E da loro Andate direttamente sul sito E potete ordinare Tutti quanti questi prodotti Che sono veramente Carini e indicati Ultima cosa Non meno importante Non le lasciate in giro Per casa Nelle vicinanze Di bambini Perché comunque Ci sono delle parti Veramente piccole Che è un attimo Ingerirle Quindi assolutamente No Nelle vicinanze Di bambini piccoli E per tutto il resto Comunque ve l'ho detto È per lo meno Un prodotto interessante Nel suo perché no Anche originale Ciao ragazzi Alla prossima Se questo video ti è piaciuto Lascia un like E clicca sulla campanella Per essere sempre aggiornato Ricevere notifiche E non perderti nemmeno Un video in uscita Primo link in descrizione Primi link che trovate Ricordatevi sempre Di iscrivervi anche Al canale Facebook Al canale mio Di Live Twitch Alla mia pagina Instagram E alla mia pagina TikTok Che sono sempre aggiornate E su Twitch Mano a mano Troverete la programmazione Aggiornata Con tutte quante le live Del giorno Quindi guardatela sempre Perché ci sarà sempre La programmazione Aggiornata Mi raccomando Iscrivetevi Soprattutto ai social Perché sono sempre aggiornati E se devo comunicare qualcosa Anche per il canale YouTube Lo troverete sempre lì Ciao alla prossima Ciao alla prossima